ciao a tutti se sentite un rumore un po' strano riconducibile al suono del muso è Jessie che sta facendo le muso e qui in braccio a me ma voi potete vedere solo il suo orecchio sta sonnecchiando felice sta sonnecchiando felice questo è un video ASMR casereccio voglio che sia il più possibile naturale oggi voglio farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto nel corso degli ultimi mesi si tratta di oggetti triggerosi che fanno un bel suono rilassante e per questo ho deciso di mostrarveli mentre chiacchiero e condivido con voi alcune riflessioni sul mondo dell'ASMR soprattutto alcune riflessioni che spero di saper esprimere nella maniera più dolce possibile senza che nessuna delle mie affermazioni risulti ovviamente offensiva ma insomma ci tenevo a fare questo discorso con voi quindi se vi voglio ascoltarmi e di fare di trascorrere qualche minuto rilassando in mia compagnia indossate le cuffie oppure gli auricolari e mettetevi comodi e noi iniziamo eccoci allora la prima cosa che voglio mostrarvi semplicemente perché vado ad applicarla è questo balsamo per le labbra che ho acquistato se non sbaglio da Amsterdam si chiama Age Perfection Lip Balm e la marca è la Emma con l'H non so se riuscite a leggere qui questo quadratino viola mi sto trovando benissimo e trovo che mi protegga le labbra sia dal freddo che dal sole di questi giorni inoltre ha un odore molto neutro e non ha un cattivo sapore non è amaro come la maggior parte dei puri labbra non so se si trovi in Italia ma nel caso ve lo consiglio non so all'inci purtroppo e poi secondo oggetto che vado a mostrarvi questo l'ho acquistato di recente e chi mi segue su Instagram già lo ha visto e ne conosce la storia voi potrete intuire dal suono e questo paio di orecchini io forse lo ricordate perchè l'ho detto in qualche video non ho intosto ma intosto praticamente mai gli orecchini ma non solo ho sviluppato negli anni una sorta di fobia che mi ha spinta ad odiare praticamente i buchi ai lobi delle orecchie tanto da volerli quasi eliminare ma non credo sia possibile però questi tintinnavano quindi ho dovuto comprarli adesso provo a metterli intanto che ci provo inizio il mio sproloquio sul mondo dell'ASMR perchè c'è proprio qualcosa che vorrei dirvi allora la questione è la seguente io fino a qualche tempo fa seguivo tantissimi canali italiani soprattutto gli stranieri un attimo forse mi serve lo specchio ok gli stranieri non tanto tranne qualche video coreano o in lingua russa perchè amavo e in realtà amo ancora il suono di queste lingue e mi sono sempre piaciuti i video i video con voci sussurrate soprattutto maschili nel tempo sono rimasta affezionata ad alcuni di questi canali che tuttora seguo con piacere compatibilmente con tutti gli altri impegni insomma della vita però se devo essere sincera trovo quasi più conforto ad ascoltare vecchi video di creatori che non sono attivi perché magari mi sono innamorata delle loro voci piuttosto che seguire in maniera assidua alcuni di quelli che sono venuti dopo e il motivo potrebbe sembrare assurdo ma ora tanto di spiegarvelo prima però vi farò vedere questo fantastico bellissimo porta caramelle di Pampling è arrivato il disturbatore seriale ecco qui guardate che carino ci sono tutti questi cactus e poi c'è scritto freehugs a prancci gratuiti e dentro ci sono delle caramelle che adesso vado ad assaggiare per la prima volta con voi se non sbaglio sono un gusto vaniglia e fragolo guardate com'è fatto carino il pacchetto veramente delizioso sono uscite due caramelline rosa buone somiglialo alle ziguli qualcuno se le ricorda comunque quando io ho iniziato a produrre contenuti ASMR su questo canale dopo un po' in realtà si è manifestata un'ondata di creator che dicevano sempre nei propri video che non amavano i video troppo professionali quelli costruiti con una strumentazione pro o con sfondi particolari alcuni creator dicevano di odiare totalmente alcune tipologie e altri sostenevano che la SMR avesse delle regole precise che certi video non potessero essere rilassanti o non potessero essere definiti ASMR queste sono tutte opinioni illegittime però non lo so mi era sembrato strano che questi creator avessero così tanta voglia di esprimersi circa l'operato dei loro colleghi che magari appunto utilizzavano una strumentazione diversa oppure concepivano un modo diverso di fare ASMR magari più elaborato non so come dire più creativo e perché io penso che comunque ognuno possa fare il proprio e youtube sia così vasto che nel rispetto ovviamente degli utenti che navigano sulla piattaforma che appunto si possano offrire contenuti diversi che si possa dare allo spettatore la scelta poi qualcosa è cambiato questo loco è stato su wish non so bene a cosa serve quindi se qualcuno di voi lo sa poi me lo scriva nei commenti insomma qualcosa è cambiato ho visto negli ultimissimi tempi quasi una corsa a creare e mandare online il più presto possibile il video più in tendenza anche talvolta creando contenuti che magari il creator ha più volte detto di non amare e non voglio tra l'altro davvero indirizzare questa mia riflessione verso qualcuno in particolare perché è qualcosa che è emerso guardando un po' il panorama generale dell'SMR italiano ma non saprei dirvi con precisione i nomi delle persone che hanno fatto questo semplicemente direi che c'è stata una specie di inversione di tendenza da parte delle stesse persone che tanto criticavano i video molto costruiti oppure i video che sembravano avere una certa professionalità o addirittura certi generi di video io so che la coerenza soprattutto su internet non è percepita come un valore e che è legittimo cambiare idea anzi è sacrosanto e a volte è veramente un bene in questo caso anche un bene per la comunità perché io credo in generale che portare contenuti di alta qualità o comunque diversi generi di contenuti possa essere solo un bene però non lo so è tutto forse per me poco assicurante e non so spiegarvi il motivo se qualcuno di voi pensa di sapere perché mi capita di sentire questa sensazione può scriverlo nei commenti ci rifletterò e così torno sempre ai vecchi io per esempio ho sempre provato ASMR con tutti i tipi di video da quelli più elaborati a quelli più caserecci e io stessa ho sempre sperimentato tantissime tipologie diverse quindi video elaborati molto elaborati meno elaborati video live addirittura totalmente totalmente caserecci e credo di aver mantenuto questo stile nonostante il canale si modifichi ovviamente del tempo e spero che venga sempre più incontro ai vostri gusti ho comprato questo struccante occhi di dell'idea ancora non l'ho provato struccante occhi delitura delitura risale il fiorito d'arangio 36 stroccante occhi delicato per pelli sensibili insulzio per la pelle elimina dolcemente le impurità il trucco d'occhi sull'albretto estremamente delicato senza profumo lo trovo molto molto interessante vediamo un po' com'è il packaging c'è qualcos'altro all'interno del cartone ho un campioncino di crema viso legnitiva sempre con vitalis e fiori per l'albretto va a provare questo e comunque tutto questo discorso perché stavo un po' riflettendo sul mio percorso e anche appunto su cosa sia in questo momento l'ASMR in Italia vedo dei canali di persone che si impegnano veramente tanto sembrano farlo per passione altri che si impegnano e mi sembra invece lo facciano più che altro perché hanno l'obiettivo di crescere alcuni di loro si impegnano ma non riescono a raggiungere grandi risultati a livello di numeri poi altri canali dall'oggi al domani hanno una grande fortuna l'algoritmo l'algoritmo di youtube è molto misterioso e quindi e quindi mi trovo un po' meno a mio agio come fruitrice rispetto rispetto a diversi anni fa non sono solitamente una nostalgica del passato non sono una di quelle che dicono ah ai miei tempi si stava meglio anzi credo che il futuro possa portare innovazione e di conseguenza positività non era migliore la smr qualche anno fa però forse era più rassicurante e niente affatto per la semplicità dei video perché vi ripeto io ho sempre guardato e amato anche i video più complessi ma proprio non lo so per le persone c'è un altro prodotto comunque che desideravo farvi vedere da tempo ed è il colorista dell'Oreal praticamente è un make up per capelli una sorta di tintura che viene via al primo shampoo è una specie di maschera colorata in questo caso blu che si applica sui capelli prima di asciugarli e crea spessore sui capelli in effetti è vero che dona riflessi colorati anche piuttosto evidenti soprattutto se avete i capelli scheritti però non mi piace moltissimo la texture cioè il capello rimane abbastanza duro non è vero che rimane completamente morbido come se non avesse nulla di sopra però è divertente a punto che posso dare soddisfazione di provarlo vedete l'interno è fatto così colorista e make up un'altra cosa che mi è venuta in mente è che ho ricevuto nel passato non troppo passato tante critiche da parte di spero ragazzini e ragazzine perché non giustificherai una critica di questo tipo mossa da una persona più adulta per quanto riguarda le sponsorizzazioni e le collaborazioni con le aziende tra l'altro prima ne facevo molte di più quando il canale è cresciuto mi sono sentita in dovere di scegliere con maggiore cura e attenzione alle aziende con cui collaborare anche talvolta sulla base del prodotto che avevo intenzione di utilizzare ma ho rifiutato davvero tante tante proposte soprattutto perché molte di queste proposte non sono affatto serie e si tratta di aziende che inseriscono nel proprio piano marketing la collaborazione con gli influencer gli youtuber i blogger e mettono questo a budget se così possiamo dire ma in realtà non pagano per ricevere quella che a tutti gli effetti è una pubblicità che costerebbe loro parecchio e ho iniziato a capire in maniera sempre più forte andando avanti il valore di questo spazio e l'importanza del consigliare sempre prodotti provenienti da aziende affidabili e laddove non fosse così di fare una recensione anche non positiva e questa è sempre stata la mia filosofia diciamo però quando il canale è cresciuto mi sono sentita per così dire ancora più responsabile però ho ricevuto tante critiche da parte di persone che non gradivano le collaborazioni con le aziende e mi scrivevano tutte le altre youtuber che seguo le altre o gli altri ASMR artist non fanno questo genere di cose e io vedo adesso che quelle stesse persone che magari prima non lo facevano forse semplicemente perché avevano dei canali molto piccoli e non venivano contattate dalle aziende adesso fanno tante collaborazioni tante sponsorizzazioni che per me va benissimo spero solo dal canto mio che si diano un valore e che non si concedano troppo facilmente a certe aziende che molto spesso sono dei veri promiscuali però a me diverte vedere video recensioni di oggetti e lo trovo un contenuto interessante quindi per me ci sto ma mi domando queste stesse persone questi fruitori che mi criticavano e mi comparavano proprio con nomi e cognomi cognomi no ma insomma facendo i nomi con altri creators adesso cosa cosa pensano vedendo che i loro creators preferiti fanno qualcosa di simile e non lo so anche questa è un'altra cosa che mi è venuta in mente e volevo condividerla con voi l'ultima cosa che vi faccio vedere ho comprato diverse maschere e mi è capitata questa sotto gli occhi ero al supermercato è una maschera della Fruitis Carnier Fruitis ed è con il 98% di ingredienti di origine naturale il che non significa che sia composta solo da ingredienti bio naturalmente però mi ha colpito moltissimo l'inci trasparente che è questo qui con la spiegazione dei vari ingredienti la trovo una trovata veramente ottima brava Carnier questa è una maschera per capelli molto nutriente alla banana e ti giuro sembra di annusare uno yogurt alla banana banana e zucchero vaniglia la consistenza è molto solita ovviamente come per tutte le maschere e l'ho trovata valida lo sto usando da non molto a dire il vero però già siamo a un terzo del vasetto cioè ne ho consumata già un terzo l'ho portata anche al mare fatemi sapere se per caso l'avete provata e se sì se vi è piaciuta non è l'unica maschera che ho comprato avevo finito da pochissimo quella di zaffero organica che è veramente ottima ma ottima quella l'aceto ialluronico e anche il profumo buonissimo però mi trovavo al supermercato e così avendo necessità di comprarne una nuova ho preso questa ed è stato un buon acquisto bene io e i miei orecchini dintinanti che tra l'altro secondo me sanno molto meglio con i capelli legati vi salutiamo però con i capelli raccolti è tutt'altra cosa se il video vi è piaciuto non dimenticate di farvelo sapere con un like e se non siete ancora iscritti al canale e volete vedere altri video rilassanti se vi va iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi ci vediamo 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 ci vediamo